Bella ragazzi, Teroncello 1 e siamo oggi con un nuovo video di Battlefield con qualche amico, presentatevi pure. Chi inizia? Io sono Dacchio 13, ciao a tutti. Allora no, seriamente, ho un canale, ho un canale di YouTube chiaramente, perché sennò non ero qua, e si chiama Ticino Videogames, e poi ho anche un altro canale ma non ne importa, e facciamo video di tutti i giochi, e siamo ultra famosi, quindi se iscrivete fa niente perché tanto abbiamo 1000 iscritti, no, non abbiamo iscritti quindi iscrivetevi, ti metterai link in descrizione, Certo. Abbiamo bisogno di iscritti perché noi mangiamo iscritti. Ok, ok, 20 secondi, tocca a Rilind. Ciao a tutti, io sono Rilind, ho anche un canale YouTube però non lo uso per fare video ma solamente per guardare video. Ok. Sono un amico di queste tre persone. Ci mancherebbe, ci siamo appena conosciuti guarda. E abiti in Svizzera dove? Abito in Svizzera, a Lugano, in Lucino. Ok, Sergio invece abita ad Ascona, e Michi? Dacchio. Sono Sergio. Siamo là? Michi? Buongiorno. Buonasera. Sono Michi. Dipende da quando guarderete il video. Continua. La presentazione c'è nell'altro video che è la MOAB con Teroncello. Sì, allora. Abita a Minuto. Ok, va bene, allora. Dacchio ha quasi 15 anni, Rilind ne ha? 15. Michi? Sono un bimbo mica, ne ho tre. Io fra 11 giorni faccio 15 anni, in 11 giorni, quindi. Ok, allora, auguri per Dacchio. Michi, quanti anni hai tu invece? No, non fai una fattoria. Ah, ok. Allora, io sono ormai il più grande perché ne faccio 16 a dicembre. Che bravo. Però sono dettagli tecnici che non ci interessano, non ne interessa nessuno. Ok. Che hai detto? Eh, in caso a quei pochi ti interessavano l'ho detto, così non lo chiediamo nei commenti. Ok, bando alle ciance e iniziamo. Conquista. Mappa facciamo, che mappa facciamo? Ma, ma, avete tutti i premio? No, io no. Io? No. Ok, che mappa facciamo, ragazzi? Vai su Operation. Quella, no, quella grande con gli aerei, che così vado un po' a giro a catteggiare. No, no, facciamo il lavoro di squadra, Dacchio, lavoro di squadra. Sì, ma più grande. Quella con gli aerei, così andiamo nelle batterie insieme a saltare nei fiori. Nel cazzo? Sì, quella. Ah, io cazzo. Confine sul cazzo, allora. Ok, pronti? Vai. Oh, no, io no, ti ho fatto un bagno. No, è figissimo, perché andiamo in giro tutti sulla jeep. È quello che faccio sempre in schifo. Ah, è vero, le rampe sulla jeep. È figissimo. Ok, ragazzi. Io guido, però, perché sono ingegnere. Oh, Sergio, lo vuoi un hdpr? Voglio un hdpr. Che domande mi fanno? Ah, già, io no, ti fanno. Eh, ne potete parlare dopo, grazie. Aspetta, non buttarmi la luce che non vedo. Ah, scusate. Ok, allora. Bene, ragazzi, te non c'è l'uno, qui con Ciadano, Michi di nuovo, Smog Dacchio e Rilind. Qui sta la squadra svizzera appena uscita dalla pace e pronti alla guerra. Non per dire, ieri abbiamo festeggiato la Svizzera e quindi adesso andiamo in guerra. Pronti? Ok, tutti sul cararmato. Via. No, no, via. Gio, un missile. Vieni, 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 vieni. Termoni, termoni. Termoni. Missile? Bug? Il missile in aria. Oddio? No, lo vedi solo te, lo vedi solo te. Che palle. Entriamo nella jeep. Tutti nella jeep, guido io. Fermi, fermi. Le mandate. Oh, vai, ci sta. Manca Rilind, ma lui va a quel cararmato, mi sa. Ok, magari vediamo se cambiamo postazione, guido io. Ok, portaci su B. No, scherzi, su C, su C, su A, su A, su A, su C, scendi tu. Ok, attenti qua, eh. No, attento, via, via. Io mi esco, già ciao, ragazzi. Eh, sono morto. Mi sa che mi ha preso in testa. Oh my god. Rilind sul cararmato, sto arrivando. Vediamo tutti, che non si è riletto. Vieni, vieni. Guardi, guardi, guardi che ti stanno sparando. Vai, no. Io sono morto. Ok, ragazzi, la seconda volta è che muoio. chi che sta guidando la gi sempre io ah ok vai ok sono di nuovo con voi mamma mia ma non ci so ok rinascito dove siamo noi eh facciamolo rinascito dove siamo noi eh andiamo avanti ok possiamo andare conquistiamo di ragazzi di non andiamo a spaccare un po' di culi eh io sono tutti voi dai che so dai che so no mamma mia ma è conquistato è già conquistata ma e che cos'è questa storia ce l'hanno fatta senza di noi e lei è conquistata eh no è vero no no ok ora si ma chiedi ragazzi voglio ricordarmi voglio ricordarmi di non spegnare perché dalla sua youtube ok grazie ma se tra me mi devono ammazzare oh siamo con i miei team vediamo ragazzi vado 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 è t i il lo questo è il la nostra base abbiamo preso l'auto go 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 non posso salire se non ti viene dai vieni a piedi su vieni a piedi su dai dai ok 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 che è il medico di turno oggi ecco bene ci andiamo subito uscire un po' aspetta c'era un errore che mi sparava e se non ci vuole non c'è non c'è non c'è ma sono appena morto non c'è si ma grazie cioè ok 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 ragazzi ho avuto un'idea che guida u io me la vedo un attimo con un FA 18 ok 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 pr vedo sub Die piuttosto è sarà fantastico ora commits testo oddio ok che serverebbe un giovelli in sede attraverso no io sono lo scatto chi è che un giovelli da credito scusa e sono ma io sono scatto vai rilasciamo sul seno mickey attenzione facciamo altro che morire pd oddio mi ha visto corri forest corri e' un po' e' ma si dice un garamato c'è volevo ucciso nt conti che viene avvenuto c'è il suo nome via ora ragazzo la gp oggi si è andata ok l'inverso di noi ecco che era e ma non sarebbe seguito i ragazzi 6 ti è piaciuto? si no oh ma scendiamo la stagipe eh infatti è quello che pensavo siamo più finiti attenti che qui c'è gente e li ammazziamo tutti ehi ma che hai mai acciso? che cazzo e li ammazziamo tutti ma perchè ancora sfortuna? sono morto ancora mi sa che siamo dettagliamente ok ok andiamo su no ve lo rimaste ma sono rinato troppo tardi no si grazie al cazzo dentro da fuori sempre lo imparo vai su a su a su scendiamo ragazzi scendiamo e io vado subire non sono come facciamo vedere che la svizzera è forte eh ma eh ma quella è il nemico allora no capisco in realtà aveva la sua gip invece era un nemico eh no io sono su su vabbè vengo su a una domanda tecnica per te non c'è lui qual'è il tuo code preferito code? che code? cosa sono i code? qual'è il tuo code preferito? il mio code preferito? sì che ho provato che ho provato finora con il quattro anche se ho giocato veramente poco sì sì ci sta io vengo a scuola però se mi raccoglie mi raccoglie mi raccoglie scusa d'acchio scusa d'acchio eh adesso fa un cuore eh 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 sì eh vai 2G fermi fermi uno va sull'altra io vado sull'altra vai ehi ma questa gemma è piena di c4 no aspettatemi aspettatemi nooo e non potevo fare niente contro l'Adrams corri porri corri eh niente nessun problema ragazzi se servo un medico io ci sono ma ho portato il filo tu? eh perchè i gui c'è qualcuno che non sa guidare e cosa è il colliglio? no sono ancora al posto di prima che è che è sull'aglio? ok io direi di andare su C fai la salita torna indietro eh affetto oh se guida dacchio allora serve l'ordine stiamo in regola si ne stavolo poi qui serve un... un medico il dottor teroncello a rapporto ahahah heee heee è qui c'è un avrabs libro non proprio quello però più o meno ma non ci sono io questo vogliamo suoniamo fare al sito su non ci sono il suo no e aspetta tu d'acqua e e vera e per l'altro perchè riscopre l'occasione giusto no uomini e che poi d'accordo io non ho messo a dire cagliari e mi chiede e' il tipo dietro no fermo fermo dove vai c'è un tipo l'ambiente il gioco per l'anno per questo tipo ma c'è un altro ecco perchè il voto molto meglio io che il figlio che ha messo in redduta con il scheletto ah ma questo è un amico ehi torrent 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 ehi qui c'è qui c'è qui c'è da soffermare vita ragazzi basta chiedere eh io sono morto, cos'è stupendo? eh devo uccidere un attimo questo nemico eh mi ha appena ucciso mani un po' rego mani un po' rego magari serverebbe sai cosa mettere due due medici vai ci sto chi è che fa medico allora? uno che fa supporto con il c4 io sono ingegnere il c4 ce l'ha dacchio no io sono scout si adesso ci sono arrivato perfetto dove sei tu invece? allora aspetta eh ma cos'è stupendo? eh eh sono medico ma sono appena morto eh e Reelink cosa sei? silenzio di tu Reelink? oh dio ragazzi dobbiamo salutare ma c'è ragazzi ti gioca? eh sono 20 minuti boss no no anzi no va bene ancora oh Reelink cosa sei tu? ma poi non sono 20 minuti non so leggere ehm Miki? ehm Miki? ehm 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 oddio non so più leggere no ehm ehm ma perchè rimasto? che sei tu qua sullo schermetto russo ehm vieni a prendermi Znook io sono Znook sono nello schermetto russo io so che le infote c'è un tipo basta prendermi l'unico pirline è stato prato ma non lo so ma non lo so ma non lo so oh un Abrams un Abrams un Abrams no tu minchia che cura no no ma dai un Abrams c'è contro l'Abrams non si fa niente ma ragazzi io mi tolgo da medico ok devo bloccare il C4 eh anche io io divento ingegnere dopo oh ma facendo un casotto schifoso oh mi hanno appena ucciso ok schieramento russo tutti vai tutti schieramento russo per il saluto per il saluto ragazzi per il saluto ok 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 ci troviamo dove siamo io c'era da un Miki schieramento russo qua 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 oh no 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 per il salire il risaluto ok qui dalla truppa svizzera appena uscita dalla pace salutiamo se volete un altro video di Battlefield altri 10 mi piace e saremo tutto tutti vostri ciao a tutti bella 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 gente bella gente bella gente bella